Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguarda la modifica della risoluzione sul desktop oppure che nel gioco non si abbina con lo schermo pieno quindi in questo caso se state giocando su monitor full hd oppure 1440p 2560x1440 e vi trovate con un gioco con i bordi neri oppure non è abbinato a schermo pieno quindi qua per risolvere il problema basta andare direttamente nelle impostazioni del pannello di controllo di nvidia per quelli che hanno una scheda grafica nvidia oppure per quelli che hanno una scheda grafica amd io non ho una scheda grafica amd però posso solamente dirvi che le impostazioni come quelle del pannello di controllo di nvidia se andiamo sul nostro pannello vai su schermo regola dimensioni posizioni del desktop e poi andremo a fare delle modifiche della risoluzione cambiando anche la frequenza di aggiornamento quindi se hai un monitor di 120 hertz però latina 60 hertz possiamo portarlo a 120 hertz regola dimensioni posizioni del desktop ovviamente se provi ad aggiungere così uno stretch tipo per esempio prendiamo counter strike ok prendiamo così counter strike come puoi vedere se lo mette a 4 terzi lo vedrai sicuramente con i bordi neri perché non è posizionato a schermo p a schermo intero se lo metti a schermo intero e metti il quattro terzi su un gioco per mettere così lo stretch lo vedrai tipo questo qua lo vedrai così questa è la differenza anche su fort net con strike fall of duty rainbow ok questa è la differenza per non avere così i bordi neri per allungare così lo schermo intero quindi devi mettere schermo intero quindi seleziona una modalità di proporzionamento metti schermo intero risoluzione metti la tua risoluzione quindi come ho detto se ti ritrovi con la risoluzione 1920 x 1080 oppure 720 però hai il monitor 1440 metti 1440 o 4k io metto full hd velocità di aggiornamento metto 165 hertz perché quella che tengo sul mio monitor se ce l'hai a 60 hertz se l'hai impostata su 60 hertz puoi metterla fino a 120 65 200 e 300 hertz quella che hai sul tuo monitor e ci metto questo schermo intero aggiungo anche lo stretch sul gioco e faccio le modifiche tutto sul pannello di controllo di nvidia per quelli che hanno amd dovete per forza usare il programma amd software adrenali edition il programma amd radeon te l'ho lasciato in descrizione il link ovviamente non posso farvi vedere niente della amd perché questo non me lo fa installare perché non ho una scheda grafica amd però dovresti sicuramente trovare il pannello delle modifiche alle risoluzioni quindi in questo caso andiamo anche sulla modifica della sono state portate quindi facciamo siamo a nulla non mettiamo niente facciamo modifica della risoluzione ed eccoci qua per modificare al meglio la velocità di aggiornamento e la risoluzione sullo schermo pc 1920 per 1080 oppure 2560 per 1440 inserisci quella velocità di aggiornamento 165 hertz puoi anche personalizzare così una risoluzione a tutta 2 a creare soluzione personalizzata tipo per esempio potrei anche mettere i 1750 per 1080 per esempio personalizza metto questa e faccio ok personalizzato 1440 per 1080 quindi per modificare le risoluzioni e regolare anche le dimensioni posizioni e desktop si devono fare tutte sul pannello di controllo o di nvidia o di amd anche se smanetti sopra sul gioco per vedere come togliere questi bordi neri o proporzionare al meglio lo schermo pieno sul desktop quindi prendere tutto lo schermo mentre stai giocando devi fare tutto sui pannelli di controllo della tua scheda video in alto a destra c'è pure un altro video su come modificare le risoluzioni alla velocità di aggiornamento tutte quelle cose che ti servono sullo schermo quindi se hai altri problemi commenta sotto al video iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao